Io dono, non so per chi, ma so perché. È stato questo il tema dell'incontro che si è tenuto nella sala delle conferenze di Palazzo Trabia a Santo Stefano di Camastra. Un incontro che ha avuto come scopo quello di informare e sensibilizzare le persone sulla donazione degli organi. La donazione è un aspetto importante, spesso sottovalutato per disinformazione, infatti abbiamo deciso di incontrarci proprio per sensibilizzare e informare la cittadinanza. L'involgimento ne riscontriamo parecchio, soprattutto nei giovani, nei ragazzi diciottenni, soprattutto nelle classi quarte e quinte di qualsiasi liceo, ma nell'ultimo periodo anche nelle persone un po' più adulte. Tanto gli incontri di sensibilizzazione, partite di calcio, scopo proprio informativo, incontri nelle scuole, nei centri culturali, nelle associazioni. Dopo i saluti di rito da parte delle autorità presenti, il presidente dell'associazione Donare e Vita, Gaetano Alessandro, si è soffermato sull'importanza di far conoscere e crescere la cultura della donazione. L'importanza della donazione degli organi è soprattutto coinvolgere la gente a iscriversi e a diventare un donatore, perché bisogna essere donatori perché un domani potrebbe servire a te. L'unica cosa che potrebbe allontanarti dal donare è il non sapere, magari distinguere la differenza tra la morte cerebrale e il coma. Solo questa qua è l'aspetto di dire, anche l'aspetto religioso, solo questo potrebbe allontanare la persona a non diventare un donatore. Sono incontri come questi di questa sera a far capire alla gente che bisogna essere un donatore dichiarandolo in vita, perché sollevi di un grosso carico e di una grossa responsabilità ai familiari. Nonostante sia ancora bassa la percentuale dei donatori all'interno del Comune di Santo Stefano, l'augurio è che la risposta dei cittadini a questa importante tematica possa crescere nel tempo, anche grazie ad un lavoro strutturato sulle nuove generazioni.